Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Della Lezzinocraft con Jaco Rollo nudo No sono nudo fammi nascondere dietro Allora ragazzi Jaco è nudo per un motivo Non perchè è tipo nudista Ma c'è ovviamente il suo motivo di ero Ma prima di cominciare Volevo fare una cosa che appunto tutti ragazzi Tutti ci avete consigliato Ovvero quella di dare la roba alle ragazze Allora che io sappia Le ragazze bisogna dare le robe rosa Non perchè sono ragazzi Ma perchè la mod è così ragazzi Non so cosa dirvi Eh si sta la mod Eh mi sa di si E siccome ragazzi Noi abbiamo veramente E sopra c'è la matura No ma noi abbiamo spade da buttare Ok qua c'è una royal guardian Quindi io lo so Forse io uso troppo Ma le voglio dare la royal Bella mia vieni qui Ma dai una delle Bella Si la royal man Cavolo la royal è la più forte del gioco Vorrei anche dire Eh si ma le nostre stanno consumando E infatti gli do la mia consumata Tieni Eh va bene dai Figa Però ragazzi Noè la nostra bellissima donna Che sicuramente ci aspetterà a casa Appunto la dovremo abbandonare Perché la dovremo abbandonare Ed è appunto il motivo per cui Iaco è nudo Intanto io mi crafto una Aspetta non c'è bisogno di craftarla No momento momento Cosa Non è che se ti attacco poi Lei mi attacca No è con quella spada No è pacifica Lei è pacifica Comunque tranquillo Perché noi ci andiamo lontanissimo Quindi non ci seguirà Allora perché Iaco è nudo E perché cosa dobbiamo fare ragazzi Allora praticamente Mi devo spogliare Di tutte queste cose qui Che c'ho addosso Un po' mi dispiace Man però ci puoi portiamocelo Eh Ok Giusto per dire E ovviamente anche lo zainetto Tipo lo devo mollare qui così Anche se un po' mi dispiace per lo zainetto Perché Oddio c'ho una spada nella R Ok Leviamola Ok ce l'ho fatta Eccola qua Eccola qua Ok allora perfetto Levo la doppia mano E la rimetto tipo qua Anzi la spada questa qui la butto Non la voglio nemmeno Poi l'ho messa nella sacoccia E via Tanto Cazzo meno Ma si ma dai Tanto chi se ne frega Allora ragazzi Ho anche dei lucky block Nell'inventario Ripeto Cosa andremo a fare Allora intanto Iaco Tiene i 30 lucky block Praticamente È una sfida Abbastanza lezza Che appunto anche voi ci avete consigliato Nei commenti Iaco qua ci sono i lucky block Eh sto facendo una cosa Vabbè sono lì comunque Prendili prima che disponino Allora io ho creato appunto 60 lucky block 30 lucky block a testa Noi li andremo lontano da casa Ad aprire E con la roba che troviamo Dentro i lucky block Ovviamente moriremo un bordello di volte Ma sti cazzi Ci andremo a sfidare In un uno contro uno C'è un problema Se ci dovessi andare Tra virgolette bene Come appunto Trovare una cosa potentissima Come la royal Comunque non la potremmo utilizzare Contro di noi Perché sarà abbastanza complicata Quindi magari troviamo tipo Le spare potenti Cioè le spare debolissime Anche se no Roba simili L'armatura potentissima Iaco è qua proprio Non finisce più il video Guarda guarda bellina che mi segue Ciao Però non c'è il pesestino dell'armatura Quello serio No proprio mi dispiace C'è la cosa seria Trova a dargli quello da maschio Eh no lo mette in mano Ben Ti ho detto che sopra c'è quella Ti ricordi che abbiamo L'esposizione delle armature Eh ma Vi do quella in esposizione Eh Vabbè dai Mi dispiace un pochettino Ma al limite si può anche ricraftare Anche la roba delle formiche Dovremmo avercela da qualche parte Eh sì Tanto siamo ricchi sfondati No man Non me la prende Aspetta forse dovrei fare così Ok ora l'ha presa Ora l'ha presa Guarda bellina Guarda bellina L'ho dato una manata Non si è fatta nulla Cioè è caduta dalle scale Volevo dire Non si è fatta nulla Comunque Iaco Prima di andare ci dovevamo portare Diario il cibo Ti ho detto Perché se no Fira ti moriamo Per altri motivi Quindi Ok 16 bistecche 8 a testa Torna anche bene Dove sei te? Sopra Sopra? Eh ok Era nella mia stanza La tua stanza Dovrebbe essere questa Ok Iaco fermati Fermati Tieni Queste qua I lucky block Le presi vero? Aspetta ma tu hai visto una cosa Cosa? Tu provi a cliccare qua sopra? Sì Uh Guarda scuola le frecce Ti dà tutti gli oggetti Direttamente Come si craftano Sì ma Da destra è tutto buggato però eh Sì va bene Lascia stare Elico Uh che bello No ora lo fa vedere Come si Bellissimo Ora me lo fa vedere Gli elicotteri non sono buggati Fa vedere il disegnino Che si crea Che figata Quindi qua ci sono tutti gli elicotteri E quindi basta tipo mettere i materiali qua dentro E li crafta Ah no c'è il nostro inventario Ah ma guarda che c'è Man ci sono Madonna guarda quante oggetti ci sono Man Oh mio dio è vero qua scorre Ma ragazzi è fighissimo Quindi basta avere Basta avere la roba nell'inventario E già li crafta In poche parole Teoricamente sì No ma poi guarda i veicoli Guarda il Il terzo Nella colonna sinistra Guarda che cannonazzi Man io sto guardando tutto qua È bellissimo È bellissimo I veicoli Dio mio Che cosa bella Così possiamo vedere di preciso Cos'è che ci manca E cosa no Perfetto Perfetto Ragazzi Questo qui sarà Fonte di un prossimo video Sicuramente Assolutamente sì Assolutamente sì Perché queste cose qui Vanno craftate proprio tutte L'aeroporto lo vogliamo piano Oltretutto c'è pure una elica Che è soltanto un'elica Quindi non so cosa possa servire Tu sinceramente Però chi se ne frega Comunque Andiamo lontanissimo Così la ragazza non ci segue E andiamo a spacchettare Lucky block appunto Quindi Io sono pronto Andiamo Ok ragazzi Siamo lontanissimi a casa Io ho provato a non farmi inseguire Dalla tipa qua Però a quanto pare Da quando ho visto la mia casa E tutti i miei soldi Mi insegue sempre E veramente ragazzi Ho fatto tantissimi tentativi Mi segui di continuo Quindi C'ho a dire una cosa Man ci ho pensato io Guarda Eh no Il punto è che esce C'è una cosa però ragazzi Non attaccherei a Nella sfida finale Quindi manche e varia Semplicemente sarò avvantaggiato Perché se spuona un mob Mi aiuterei Man sistemata Man Non so quanto sia giusta come cosa Comunque Man Senza perdere l'altro tempo Cominciamo Ad aprire i lucky block Ok Ok dai Oh io non voglio Non te lo dico cosa Cosa trovo eh Uuu Man Io te lo devo dire Cosa ho trovato Guarda Dimmelo Fiori Man Mi li regali Uh Qua ho paura però Ho paura Qua mi muore la ragazza Man Te lo dico Qua mi muore la ragazza Vediamo Sì Che culo Che culo Tutta roba mia Tutta roba Ovviamente non è valido Rubare i materiali dell'altro Eh No aiuto Man Cos'è successo Cos'è successo Man Cos'è successo Perché hai volato Io con un colpo Ma eh Cos'hai fatto Eh guarda cosa c'è in mare Ah Eh no vabbè tranquillo Ci pensa la mia ragazza A queste cose Veramente Test di Wither Non ci fai nulla Reaper e test di skater Eh no Cercavo Wither Ho trovato una Lucky Fishing Road Ok Uh Attenzione Già la prima arma Già la prima arma Ehm Non potresti usare Etoricamente l'arma Eh Eh Jaco Pesa Questa pesa Come si fa? Ehm Ah la mia ragazza La sterminate No no Stanno combattendo contro lo zombie C'è il In cosa zombie Ma la tipa dove è finita? Mmm Vabbè chi se ne frega Comunque Jaco Io qui continuo ad aprire La tipa mi sa che è sparita per sempre Non lo so Ok un altro Di questi aggeggi Bene io sto trovando Merda Davvero? Bene mi sa che qui Ehm 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 Allora Jaco Non vorrei fare il tragico No 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 Non vorrei fare il tragico Ma lì non riusciamo più a tornarci Te lo dico Ehm Jaco però In questo isolotto qui Tipo non Ehm Non c'è il rischio che Questo è quello che ci passa Il convegno Però man Cavolo io da giù Ho trovato l'uranio Ehm Oh vai Io te lo dico Ho trovato un pezzo di Big Bertra Però Non la posso usare contro di te Perché Beh E' abbastanza ovvia la cosa Non ti fa danno Oh ho trovato una renna Una renna? Che ci fai scusa? Oh Io oltre a volte ho trovato una spara veramente buona E non me ne ho nemmeno accorto Vabbè ci sta No 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 Ti prego Cazzo Questo se lo uccido Cazzo Man oddio Io ho trovato una cosa Che dovrebbe essere tipo stra buona Se riesco a ucciderla Ah io fa male Fa male però Ehm fa male il cuore Fa male Devo ucciderlo però Devo ucciderlo a tutti i costi Devo ucciderlo a tutti i costi questo qua Muori 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 Che si è occupato con le pecore Sì Ho trovato anche Ho trovato una cassa Con dentro un piccolo Man non ci credo E lo zaino Hai presente il Il coso Lo scorpione che si chiama Charles qualcosa Eh Droppa sempre Roba potentissima in diamante Non mi ha droppato niente Io non ci credo No 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 Ancora le mantidi Man a me di Lucky Block Ne mancano ancora un bordello Te lo dico Ci butto dentro una cosa a caso E' 30 e non ho aperto Uh Altri diamanti Eh no A me ne mancano 13 ancora eh Giusto Per buttartela lì ecco Li apro a raffica Un altro pezzo di Big Bertra Un altro pezzo di Big Bertra Oh mio dio Devo trovare sulla mappa dove Dove Jaco tu non puoi battermi Perché? Perché? Eh No 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 Cazzo C'è le cose lì Che dà il gringo Perché ho trovato le cose oppi io Cosa cade? No cade qualcosa dal cielo Mi sono salvato Però sono incastrato qui Vediamo se riesco a salvarmi così Ok Sì mi sono salvato Ok Ehm Ok ce l'ho fatta uscire dalla trappola No 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 Il coso che spara Roba Ok Jaco qua è un casino Qua ti dico è un casino Prova a buttarci dentro un disco rotto Vai No 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 Sporre tutto Sporre tutto Sporre tutto Sono in acqua Non mi fa danno Non mi fa danno Ok L'isola Jaco L'isola non c'è più Non c'è più l'isola Ma sì Ma quando mai abbiamo pensato Algo Me ne mancano solo due No Il buco Il buco Ho la morph Nessuno mi vieta di usare la morph Almeno per uscire dal buco Ok perfetto Eh ma che cazzo è evocato su quest'isola No 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 Caro 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 Ok Risalgo Ehm È stata una cosa un pochettino devastante Lo ammetto Ehm Le cose non sono andate come dovevano andare Te lo dico chiaro e tondo Quindi allora Apro l'ultimo Ma hai evocato il demonio Ma che cazzo Sì All'incirca sì Comunque apro l'ultimo man eh Vai Uh sono pronto No no Un'altra cosa del gringo Allora man Perfetto Perfetto Mi sembra Di essere messo abbastanza bene Ho trovato molte cose Ho trovato 53 E sotto i miei 53 diamanti L'unico problema È che non ho la crafting table Perché non ho trovato Eh Sono cazzi tua Adesso Man Sono cazzi tuoi Altro che Sai una cosa Dove volevo fare lo scontro qua Che armatura è la tua ametista Sì Man Io ho quella di motoscale Ah È più potente Sì Allora io ce l'ho Fa un culo No man È più debole Volevo dire è più debole Eh no Adesso ti arrangi Man Non ti fidi del tuo amico È più debole Man è al mio via Aspetta Da lontano però Devo anche mangiare Assoluto aspetta che qui ci sono Però qui non possiamo combattere Man c'è di tutto Eh man sì È più bello qua C'è il territorio lezzo Sei pronto? Man Vai 3 2 1 Via Oh Oh Che cazzo fai? Cosa stai lanciando? Cosa hai trovato? Jaco cos'è quella roba? Eh Ma no 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 Cazzo cos'è? La La staffa La thunder? Eh sì Cazzo Quanti usi hai ancora? Ma fa male Cioè Aio 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 no 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 Jaco Abbi fietà Abbi fietà di un piccolo metano No No Dai la rifacciamo Tranquillo Rivincita Jaco Rivincita Rivincita Ovvio Sconto Sconto diretto Però solo spada Stavolta soltanto spada Man Sei sicuro come fai solo spada? Man Si prova Come al solito Come prima Aspetta No ma ricoperteglio Man aspetta un attimo Che qua c'è di nuovo lo schifo Aspetta vai via No 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 fermati Fermati Non ho vita Io non ho vita Perché mi sta sparando Ma guarda ora se crepo Per i cazzi mia Ho un cuore Un cuore e mezzo Ok È morto Via Cioè È morto ma Sono morto anch'io praticamente Devo generare tutta la vita Ma perché il gringo Cioè il coso lì Il triffid Sta attaccando i gattini Cazzo Fa malissimo Mi la fai vedere prima la tua spada Però No Dai per curiosità La mia te l'ho fatta Man non sai che in quella lì Non mi fai danno Vuoi vedere? No 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 Non cliccare Non cliccare Quando sono pronto Mi mancano cinque cuori Cinque cuori ci sono Ci sei? Seguimi Man io ho paura però Io ho paura della tua spada Mi sa che sei stato un pochettino Più fortunato a te Non lo so Il fatto cos'è che Man Man cavolo In effetti no Fa abbastanza schifo la mia armatura Non è che sia poi tanto buona Io potrei craftarmi tipo un'armatura Potentissima Ho saltato i miei cosi? Sì L'ha uccisi la mia ragazza forse O in tanto è utile Man Un cuore e mezzo mi manca Per generarmi eh E non guardo se qui Con queste robe qui che ho trovato Posso fare qualcosa ma Man Come te ho che ti uccido Senza attaccarti? No man man Di spada Di spada eh Pronto? No ma dico vai A tre Due Uno Via Ho paura Aio Cosa mi ha attaccato? I cani No Man Anche i cani Sì Ma man Meno male che c'è la mia ragazza qui a consolarmi Ciao Jaco ha fatto lo stronzo Si è rimasto male Jaco ha fatto Ma man Anche Ma a parte Quanto male va tra la tua spada? Otto di danno Eh lo so Eh lo so Infatti per quello qui ero tranquillo Potremmo mettere anche l'uso Potentissima quella spada E cavolo Quindi ragazzi Qui non c'è bisogno neanche di dire chi ha vinto E qui mi sa che sono stato un pochettino arato E stracciato E stracciatellato da Jaco eh Ah è stato molto da te O con i miei cani Guardali Io man Però Devo dire che comunque non mi è andata male Perché io ho trovato Due pezzi della Big Bear Tra 53 diamanti Cioè a me Veramente è andata anche bene Il fatto è che poteva andare meglio E questo è il fatto Eh vabbè Che è sfigato In amore Sfigato anche in gioco Ma intanto c'è la ragazza man Che è qui che mi aspetta a casa E te invece è Io dico nella vita vera Quindi ragazzi Il video finisce qui Un like per metano Poverino Che fareva l'un Una pacca sulla spalla Non voglio fare il video con Jaco Man Una pacca Cioè un like Una pacca sulla spalla Quindi ragazzi Da oggi la serie la contenerò io E questa qui che Clarissa è quella morta Nell'ultimo tuo episodio Questa è chi era Era Rebecca I cani mi stanno raspando parecchio le palle Man Ah ci stanno ancora attaccando Sì ok Non mi cedono più L'ho dato un pezzetto di cane Non mi cedono più Allora Quella dell'ultimo episodio Clarissa Lei non mi ricorda come si chiamava Oddio Vabbè dopo glielo chiedo Comunque la serie ragazzi La contenderemo io E questa tipa qui Jaco non ci sarà più Perché una brutta persona Si è vista in questo episodio Detto questo Spero appunto In questo video leggissimo Vi sia piaciuto Ed ciao a tutti Posso dire addio Visto che non ci sono più Dillo man Dillo Ci vediamo al prossimo episodio Perché io ci sarò E Clarissa morirà ancora Anzi Veronica No È vero Lei era Veronica mi sa Però non morirà Ora che anche la spada potente E l'armatura È imbattibile Vuoi vedere guarda Hai cani e do il cibo Mi fa il cuore Hai cani e do il cibo Mi fa il cuore Hai cani e do il cibo E fa il cuore Dici così Della mia donna però Della mia donna